Slow Food Urbino ha accettato con piacere l'invito di Visit Gabice e del Presidente Ceccarelli per sottoscrivere questo importante protocollo d'intesa che andrà a gestire tutte le iniziative in campo dell'agroalimentare grazie alle esperienze e all'efficacia e al volano che produce Slow Food come associazione e massima espressione nel campo dell'enogastronomia. La fondazione Visit Gabice ha visto in Slow Food Urbino un partner fondamentale per la promozione del nostro territorio. Noi siamo nati proprio per promuovere la provincia di Pesaro Urbino, per promuovere Gabice Mare e tutte le eccellenze che questo territorio è in grado di fornire alla gente che lo viene a visitare. Riteniamo che Slow Food Urbino con tutti i prodotti che promuove per il nostro territorio sia un partner fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. A fronte di questa nuova collaborazione abbiamo già pensato ad un primo progetto riguardante i cesti natalizi. Proporremo a tutti gli associati della nostra fondazione l'acquisto dei cesti natalizi con prodotti selezionati da Slow Food che fanno chiaramente da promotore per la nostra destinazione.